Prima delle feste natalizie, nell'Open Day al Garda di Fornovo, oltre all'esposizione delle aziende del territorio che collaborano con l'Istituto nell'alternanza scuola-lavoro, sono stati presentati progetti dell'indirizzo liceo-scientifico, la terza A con la produzione di video tutorial, terza e quarta A con la realizzazione di uno strumento per misurare i parametri chimici prodotti dalla combustione delle sigarette. In collaborazione con l'US territoriale e il Lions Club Valceno, la terza B dell'indirizzo professionale ha realizzato un sistema di pesatura dinamica dei carrelli elevatori in collaborazione con la ditta Mora Carrelli, la quinta B dell'indirizzo informatico con l'applicazione mobile Fari in collaborazione con Infinito Design, nonché le avanguardie educative e di apprendistato. La giornata di oggi si inquadra nelle giornate di scuola aperta in cui invitiamo chi vuole venire a visitarci ad incontrare l'esperienza che si sta facendo nella scuola. Esperienza di studio, esperienza di approfondimenti, esperienza di rapporto col territorio attraverso il rapporto con le aziende o con gli enti, i progetti di esperienza all'estero raccontati dalla voce viva degli studenti, dei docenti, delle aziende o dei soggetti che collaborano con l'istituto. Un istituto scolastico territoriale al centro di importanti aziende produttive ad alto livello tecnologico e molteplici opportunità di concretizzare l'alta formazione con un lavoro professionale. Questo territorio sia un territorio bello da vivere e ricco di opportunità. C'è uno spazio per i ragazzi per vivere, crescere, educarsi, incontrare il mondo che qui viene offerto in maniera ricchissima. Quindi il motivo per cui nel tempo dell'educazione, nel tempo della formazione si possa stare in un ambiente bello, in un ambiente ricco, c'è tutto. Poi il mondo è grande e nessuno vuol chiudere le ali, tanto che già molti nostri studenti fanno esperienze di Erasmus K1, esperienze con aziende anche all'estero, esperienze di ricerca. Però la cosa interessante qui è che si possa vivere in un ambiente sereno, relativamente vicino anche alle proprie abitazioni, senza mettere spazi di viaggio, costi e nello stesso tempo respirare il clima del mondo. In conclusione, la lettera generazione senza della terza C finanza e marketing, in ribellione a chi con pregiudizio definisce Fanulloni i giovani di oggi. Stanno rivendicando la loro capacità di essere dei soggetti attivi. Io credo che sia molto vero. Noi un po' più vecchi tendiamo a vedere con occhi critici, a volte con occhi troppo critici, le nuove generazioni. Invece probabilmente sono le generazioni che servono in questo momento storico perché sono più capaci di noi di intercettare il nuovo che avanza. È sempre stato così.